uh si prende il doppio io non sono fortunato ragazzi io non sono fortunato è inutile che mi scrivete i commenti sei fortunato batte un 2000 a mossa 9 grande buongiorno ragazzi io direi di continuare col format che ho proposto qualche giorno fa lascerò magari qui il link alla prima puntata ossia una serie di partite veloci giocate fin quando poi non perdo quindi la serie verrà interrotta solamente quando ci sarà una sconfitta magari sarà una partita magari saranno due magari neanche una chi lo sa perdo perché il mio avversario annulla la partita sul nascere io direi di partire prima di partire è doveroso ricordare che fino a domenica questa domenica c'è il black friday sull'accademia di mattoscacco tutti i corsi di scacchi sono scontati al 30% detto ciò partiamo andiamo a trovare un avversario che si possa giocare a 3 minuti ok facciamo cose interessanti 4 facciamo il mega che difesina che c'ha l'amico che difesina che c'ha l'amico del Kaiser perché ha perso il cavallo pensavo che si era inventato strano strano che ah perché forse non si aspetta ah ha giocato subito cavallo c6 perché si aspettava cavallo f3 ho capito ora è tutto claro ora è tutto claro va bene io vado per arroccare vado per arroccare se mi arriva qualche scacco mi difendo con l'alfiere attenzione a questo pedone questo pedone potrebbe essere scusa io c'ho questa c'ho questa qui credo di sì scacco sta giocando in maniera un po' strana il mio avversario nella scorsa puntata mi avevate detto che ero molto fortunato in realtà si sono molto fortunato incontro avversari che pur avendo un punteggio alto fanno svarioni potenti e ora la torre cade allora la torre cade però questo questo è importante questo è un punto importante momento critico della partita se vado qui forse vado in D1 perché se metto davanti all'alfiere cade qui attacco sulla torre attacco sulla torre non lo so forse in D1 D6 forse in D1 forse in D1 potrebbe essere più al sicuro questo re vediamo se ho detto una cavolata o no adesso cercherà di fare no queste robe qui però io ho F3 sugli scacchi in realtà quindi non non ho nulla da temere devo solo catturare questo cavallo o il pedone credo che lui difenderà il cavallo tipo esatto e a questo punto io ho anche alfiere qui tra le tante cose belle che posso fare no? credo di sì non mi sto perdendo nulla gioco sull'inchiodatura vado per forzare i cambi sono un più 5 di materiale quindi quindi sono molto felice per fortuna la donna non ha scacchi importanti ma questo però nulla di che non ha ok vado per cambiare tutto cambio le donne cambio gli alfieri e sono felicissimo così e sono felicissimo così questo pedone quasi quasi lo spingo però ok abbandonato va bene onesto un abbandono onesto prima partita andata andiamo con la seconda vediamo se prendiamo subito mazzate urco 2010 perché avete 2010 punti ma perché a chi ve lo fa fare di avere tutti questi punti poi più ne avete più ne perdete ragazzi uh si prende il doppio ah 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 io non sono fortunato ragazzi io non sono fortunato è inutile che mi scrivete i commenti sei fortunato batte un 2000 a mosso a 9 grande 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 allora vogliamo provare a continuare a sfidare la sorte proviamo a farne un'altra secondo me questa va male perché adesso magari ho battuto il 2000 Ces mi mette contro il 2050 invece no invece no vai vai continuiamo a fare a sfidare la sorte andiamo andiamo così cattivi con le nostre convinzioni con le nostre convinzioni vai vai giochiamo in codesto modo ok vediamo di di metterlo in difficoltà vediamo di metterlo in difficoltà in realtà credo che già con la cattura un po' ti metto in difficoltà già con la cattura tac 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 vai facciamo prima forse già con la cattura cattura tu mi catturi io ti catturo facciamo così andiamo di premu di pedone ho perso un sacco di secondi su sta mossa questa onesto non me l'aspettavo questa non me l'aspettavo ok cambio di piani se mi cattura il cavallo devo andare con la regina altrimenti arrivava quella bruttissima mossa e avrebbe perso l'alfiere cioè perso l'avrebbe cambiato col cavallo ma questo alfiere è l'alfiere buono l'alfiere buono non posso permettermi di perderlo aspettiamo prima di arroccare consoliamoci un attimino ok qui lui vuole prendere spazio e ci sta ci sta la spinta ok alfiere tu cosa vuoi nella vita ognuno di noi nella vita deve fare qualcosa deve essere qualcuno tu vuoi essere qualcuno o vuoi essere B5 B5 ispira B5 devo dire che ispira mamma mia tutti i pedoni sul bianco tutti i pedoni sul bianco va bene va bene l'alfiere potrà essere riposizionato magari in C7 facendo pressione su quel pedone adesso c'è il cavallo sotto adesso l'alfiere entra in gioco metto anche la torre dietro attacco sul cavallo va bene attacco allora sul pedone però attenzione a questo attenzione a questo che arriva questo arriva donna C4 ok donna C4 credo che la farò comunque a questo punto facciamo prima così prima così cavallo arriva ok donna C4 adesso è importante forse si potrebbe evitare sì probabilmente si potrebbe evitare donna C4 bene ho finito le idee se avete idee ragazzi fatemene sapere io penso di averle finite credo che andrò a raddoppiare le torre a questo punto ci vuole un po' un po' di casino qui io attenzione che perdo la donna qui eh qui perdo la donna se mi arriva un cavallo da qualche parte io perdo la donna tipo così posso andare solo qui ma infatti sta pensando come intrappolarmi la donna non so se c'è gioco sulla colonna C io sto giocando sulla colonna C ma eh sì questo mi intrappola la donna te lo dico io te lo dico io come va a finire qua e quindi visto che so già come va a finire niente mi creo lo spazio per la donna porca vacca sto cavallo è veramente inutile questo cavallo è veramente inutile portiamo almeno in difesa che dici? ci sta? portiamo in difesa? far qualcosa? non so cosa qui adesso arriva anche l'altro cavallo va bene buona buona sono sotto di tempo dannatamente sotto di tempo facciamo questa almeno giochiamo su questo sull'impedirgli questa spinta madonna che situazione angusta che situazione angusta qui sì tra l'altro non sto reagendo in nessun modo quindi giustamente se non si reagisce in nessun modo come vuoi che vada a finire la partita così per esempio devo sì dai devo in qualche modo fare qualcosa che qui mi stanno arrivando veramente delle mazzate potenti mazzate potenti uff tempo 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 ok perché mi hai fatto questa fra poco lo capirò qui il tempo purtroppo stavolta non stavolta non mi salva stavolta il tempo non mi salva che cacchio ho combinato che cacchio ho combinato stavolta sì forse scacco spingo qui forse ho qualche giochino ma non lo so eh sparo proprio no non lo so persa è andata qui arrivano le torri fa andata andata ah perso no perso perso in malo modo ma questa però la vorrei rivedere perché ho giocato in maniera brutta strapassiva per tutta la partita dovuto anche ovviamente dall'apertura pessima però cosa potevo fare soprattutto per migliorare qui la situazione è pari ok ah ok che stupido sì c'era questa c'era questa va bene va bene c'era quella c'era quella va bene alfiere b7 va bene torre qui e come mi diceva subito di spingere il pedone perché devo sacrificare questo pedone c'è qualcosa che non vedo sacrifico il pedone tu catturi con questo cavallo alfiere perdico ah c'è porca vacca ma guarda vedi che le possibilità ci sono siamo noi che non le vogliamo vedere sì qui qui ho iniziato a giocare veramente a caso un po' sulla colonna c così a caso però sì 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 qui tutto passivo è vero il computer ha ancora posizione di parità ma qui non ho la più pallideria di cosa fare potevo giocare cavallo c6 in effetti per cambiarlo col cavallo qui tutto per tutto mossa mancata cavallo per f5 gioco prima questa 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 no ragazzi no ragazzi lo ridico so che voi l'avete vista so che voi l'avete vista prima no ma c'era la donna sotto dai non ci credo che cosa ho giocato qui va bene va bene non va bene niente perché si poteva continuare la sfilza si poteva continuare la sfilza niente ci fermiamo qui per oggi spero che almeno vi siete fatti due risate io un po' meno dopo che ho visto questo un po' meno ma ci aggiorniamo ciao ciao